Segretario Dierna, la maggioranza si spacca sulla problematica che riguarda la chiusura del centro storico. Un comunicato stampa abbastanza di rottura rispetto alla decisione del sindaco di Caltanissetta. Voi dite, le decisioni nella democrazia partecipata si prendono assieme. E dunque vuol dire che non siete d'accordo, non siete stati abbastanza coinvolti? Ma noi, una premessa, noi sin da settembre, quindi dall'inizio della legislatura dell'amministrazione Rulo, abbiamo subito organizzato due convegni dove appunto la problematica della viabilità nel centro storico, così come era da programma elettorale dell'alleanza e dell'Udcina il suo programma elettorale, avevamo già presentato al sindaco Rulo una serie di iniziative che per noi dovevano essere propedeutiche proprio per parlare di viabilità del centro storico e quindi la relativa pedonalizzazione. Abbiamo constatato purtroppo che queste nostre iniziative non sono state portate a termine proprio perché non c'è stato il coinvolgimento da parte del sindaco Rulo a un discorso più serio e più ampio, coinvolgendo così come per ora si dice quella democrazia partecipata e quindi con il coinvolgimento dei cittadini e degli operatori commerciali affinché si potesse trovare una soluzione unica con delle proposte che secondo noi riteniamo imprescindibili prima di arrivare alla pedonalizzazione. Ripeto, queste iniziative che noi abbiamo portato avanti e continueranno a portare avanti non sono state rispettate. Proprio per questo motivo si è arrivati, secondo il nostro modesto parere, a questa situazione che sicuramente non va bene a nessuno. Abbiamo deciso di uscire con il governato stampa proprio per far sentire la nostra voce e dire al sindaco attenzione, dobbiamo ovviamente, il metodo che è utilizzato non è corretto, non è abbastanza semplice visto anche le lamentele che ci sono e quindi il nostro pensiero l'abbiamo esplicitato in questo comunicato. Il sindaco però rispetto alla sua decisione iniziale ha fatto alcuni passi indietro che ha spiegato accettando alcune richieste di quei famosi sette punti dei commercianti. Cosa non vi sta bene? Io non parlerei di passi indietro, sarebbe controproducente parlare di passi indietro. Bisogna attuare quelle iniziative che, ripeto, sono imprescindibili proprio per far sì che i residenti del centro storico, appunto gli operatori commerciali del centro storico, possano essere accontentati per quello ovviamente che si potrà fare. Con questa decisione la maggioranza scricchiola, che è una maggioranza già abbastanza litigiosa? No, no, non penso assolutamente. Noi nel comunicato stampa abbiamo anche scritto, perché è giusto che lo dica anche io, lo dica il partito, il gruppo consigliare. Continuiamo a appoggiare l'amministrazione Ruvolo con lealtà, con onestà, con correttezza. Proprio per quel patto che ci siamo dati e l'Udc non si è mai pentito di aver appoggiato il sindaco Ruvolo, però contestiamo la metodologia che sicuramente fa parte della dialetta politica, della dialettica politica. Le decisioni importanti di questa città, il Ruvolo ci ha messo la faccia, i partiti ci hanno messo la faccia, i consiglieri comandari ci hanno messo la faccia, però è ovvio che su queste tematiche e su altre tematiche che interessano i cittadini e la città di Caltanissetta tutti dobbiamo avere la nostra voce. E prima, dettata dalla sua stanchezza, anche perché fare sindaco come oggi non è facile, dalla sua impossibilità, fermati un attimo, contatta i tuoi partiti dall'alleanza, contatta i consiglieri comunali, sediamoci, discutiamo e decidiamo.